Noi siamo il Rotract Vallo della Lucania Cilento, un'associazione che si occupa di promozione della cultura nonché di volontariato. Quest'anno durante gli antichi suoni per il secondo anno abbiamo preso in gestione la torre dove verranno fatte delle osservazioni astronomiche, dove al primo piano della torre ci sta una mossa fotografica, nonché all'ultimo piano ci sta una terrazza panoramica. Il nostro obiettivo è quella di promuovere il territorio, riprendere quelli che sono i siti archeologici del territorio, quindi abbiamo fatto anche un'altra attività a Velia e con il ricavato di queste serate, dove non si paga un biglietto, ma si fanno delle offerte a piacere dell'utente, come progetto di quest'anno abbiamo deciso di donare il ricavato all'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Tante sono le attività che facciamo, abbiamo organizzato anche un torneo di ping pong sempre non a scopo di lucro e altre sono le attività che faremo durante quest'anno sociale. Quindi per tutti coloro che hanno delle idee, ulteriori idee su quello che possiamo fare e vogliono un nostro contributo, noi siamo allora a disposizione, posso visitare la nostra pagina Facebook Rotract Vallo della Lucania Cilento, nonché il nostro sito internet raccilento.org. Pertanto spero che tutti i visitatori si stiano divertendo, stiano passando una piacevole serata e invitiamo tutti quanti ai prossimi eventi che, ripeto, invito a visitare sul nostro sito tramite la pagina Facebook. Grazie. Grazie.